Musica Bentrovati con il TGLIS di Telebari. È stata eseguita una donazione straordinaria di sali minerali e integratori da parte di Federfarma Bari grazie alla collaborazione con l'assessorato al welfare e si tratta di oltre 7000 bustine offerte in previsione delle prossime ondate di calore che potrebbero colpire persone anziane e maggiormente vulnerabili. Sarà la rete cittadina del welfare composta da realtà del terzo settore e del mondo del volontariato coordinate dall'assessorato al welfare a distribuirle nei mesi di luglio e agosto durante le giornate più calde della stagione in occasione di attività all'aperto e nel corso degli interventi di assistenza domiciliare. Dopo il grande successo dello scorso anno con Vincenzo Schettini il professore della fisica che ci piace parte la nuova campagna di immatricolazioni 2024-2025 del Politecnico di Bari che anche quest'anno sceglie un podcast con divulgatori scientifici, influencer e youtubers per avvicinare la generazione Z alle discipline STEM mostrando anche il loro lato filosofico. Durante la conferenza stampa che si è tenuta nel set approntato per la registrazione del podcast sono stati proiettati i dati che parlano del successo di Poliba in questi ultimi anni, annunciate le novità accademiche con i capi di dipartimento e presentato il nuovo podcast dal titolo Cogito Ergo STEM. E adesso le altre notizie del TGLIS. La GIP di Bari, Anna Perrelli, ha rigettato, ritenendola inammissibile, La richiesta di patteggiamento a un anno e otto mesi con pena sospesa per Fabio Carlino, il 47enne imprenditore di Lecce indagato per prostituzione minorile. L'uomo ai domiciliari fino a pochi giorni fa, dopo l'arresto del 12 maggio scorso, è accusato di aver avuto rapporti a pagamento con due ragazze minorenni a Bari tra gennaio e febbraio del 2022. L'indagine aveva portato alla luce un giro di prostituzione minorile di cui sarebbero state vittime quattro ragazze di Bari e provincia, minorenni all'epoca dei fatti. Le porte del carcere si sono aperte per l'oncologo barese Vito Lorusso, papà della ex consigliere comunale Maria Carmen e suocero dell'ex consigliere regionale Giacomo Livieri. Anche lui in cella dal 26 febbraio scorso. Il medico è da qualche giorno in cella nell'istituto detentivo di Turi. Il trasferimento in carcere è stato su disposizione del procuratore capo Roberto Rossi, dopo che la sua condanna a 5 anni è diventata definitiva. Secondo l'accusa, Lorusso in più occasioni aveva rivenduto ai pazienti farmaci antitumorali appropriandosene dall'istituto. Entrano nel vivo le consultazioni tra il neoeletto sindaco di Bari, Vito Leccese, e i partiti e i movimenti che lo hanno sostenuto al primo turno e successivamente al ballottaggio. Non è ancora chiara la data di proclamazione in seguito alla quale il primo cittadino potrà insediarsi ufficialmente a Palazzo di Città. Sono infatti in corso le ultime verifiche da parte della Commissione elettorale, ma il tutto dovrebbe avvenire entro la fine della prossima settimana. Dubrovnik, Rodi, Tolosa, Spalato sono solo alcuni degli otto nuovi collegamenti disponibili dall'aeroporto di Bari, con Volotea che proprio nel capoluogo pugliese ha aperto una nuova base operativa, l'ottava in Italia e la ventunesima in Europa. Con la nuova base, Volotea consoliderà la sua presenza sul territorio per un totale di 18 destinazioni servite dalla compagnia, nove delle quali in esclusiva. E adesso le notizie provenienti dall'area metropolitana e dalla regione. Una donna di 76 anni, Anna Rita De Rosa, è morta mentre stava entrando nel santuario della Madonna del Canneto a Gallipoli, dove il fratello parroco era in attesa di celebrare la messa nel giorno della festa che ogni anno richiama migliaia di Gallipolini. La donna stava facendo l'ingresso nel santuario insieme a un'amica, quando all'improvviso, forse a causa di un malore, è caduta sbattendo la testa all'indietro. Vani i soccorsi dei sanitari del 118. Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613 nel Brindisino, all'altezza di Torchiarolo. I malviventi avrebbero esploso colpi di arma da fuoco ed incendiato autovetture su entrambi i sensi di marcia, per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. Non si sono registrati feriti tra gli addetti al trasporto dei valori. Si fa più difficile la situazione alla Leonardo Di Grottaie. L'azienda ha comunicato l'avvio della cassa integrazione per quasi mille lavoratori, dei 1.500 impiegati, fino ai primi di novembre. I sindacati ritengono del tutto insoddisfacente l'incontro con l'azienda e minacciano proteste. La decisione è conseguenza dello stop forzato agli impianti del sito di Grottaie, per via della monocommittenza con l'americana Boeing, per la quale vengono costruite parti delle fusoliere. Più risorse per la sanità pubblica a Lecce e provincia. Il piano budget da oltre 3.250.000 euro, approvato dalla ASL del capoluogo salentino, punta a ridurre le liste d'attesa e a garantire a cittadini e turisti una migliore offerta di prestazioni essenziali, specie nei settori in cui si verificano le maggiori difficoltà. Più prestazioni significa però maggiore impegno per il personale sanitario, da tempo alle prese con il cronico problema della carenza di organico. E con il TGLIS è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento. E con il TGLIS è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio per averci seguito.